E' un po' in mezzo, al cuore facciamo una foto. Quindi sono davvero fiero, grato a voi e tifo in tutti i modi per voi. E quindi vi faccio davvero di cuore, in bocca al lupo massimo, vi seguiremo dall'Italia e qui dalla Camera dei Deputati faremo un tifo sfegatato. Lo sport mi ha dato tante soddisfazioni nella vita, perché ogni giorno che passa divento ancora più consapevole. Per me la disabilità non è un limite ma è una ricchezza. Qual è il nostro motto? Il nostro motto è che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze. Spero vi divertirete, anche se qui tutti quanti vi stiamo caricando di grandi responsabilità perché dovete impegnarvi per voi stessi, per i familiari, per il Presidente Figo, per il Presidente Conte. Grazie!